Catwoman! Dopo aver ricevuto il potere della magia durante il teletrasporto all'universo alternativo, Catwoman scoprì di potersi trasformare in una pantera nera a suo piacimento. L'aumento di forza e agilità la rendono una felina che non verrà mai più messa in gabbia. Catwoman è diventata una pantera nera e ha commesso un grave errore. Non va bene.